Col trasporto di merci non imballate ho sempre avuto dei problemi. Una volta ho percorso l'E45, buche, dossi, curvoni, frenate improvvise. All'arrivo mi hanno controllato il carico, ho detto, bevo cos'è, ghiaia? Ho detto, no, ceramiche c'è scritto in bolla. Porca miseria. Invece adesso, con Pallet Waste, qualunque stiano le condizioni della strada, la merce arriva puntualmente a destinazione, perfettamente pallettizzata ed integra. Pallet Waste è la scelta perfetta per affidare le tue merci su Pallet.